Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo video mi diciamo Gensre e oggi ci siamo ritornati da tantissimo tempo in un video di Brawl Stars ragazzi Ebbene sì, siamo ritornati su Brawl Stars dopo non so quanto Come avete visto c'è pure, abbiamo messo prima una webcam Beh, vabbè, non importa, ragazzi, per questo video lasciate 5 o 10 like a vostro video, commentate, condividete Iscrivetevi una campanella così vi riferiranno tutti i notifichi di video live E' andata abbassiamo per il volume, che mi sa di sì Andiamo a giocare con il nostro caro amico Sky Blue E niente Andiamo a giocare e ci becchiamo in partita Ci becchiamo in partita, raga, bella Ok ragazzi, siamo ritornati e ora dobbiamo andare a difficoltà normale a uccidere il robot Dobbiamo uscire il robot E niente Tanto per questo video, come ho già detto prima, lasciate 5 o 10 like E se volete ancora altri video con la webcam Fatemelo sapere con questi like, così che dovete, dov'è, 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 non so parlare oggi Dovete lasciare E niente, raga Mi raccomando, lasciateli Così almeno inizieremo a registrare con la webcam Va bene? Comunque questa qua è la seconda volta che registro con la webcam E ho fatto pure un video con il micro, non c'è proprio sì, do lo sì E su Brawl Stars sempre Con la webcam Dove intanto siamo morti E vabbè Dai muoviti, muoviti, muoviti Che dobbiamo andare a uccidere tutti quanti, raga Raga, scusate se in questi, in questo, in questi giorni non l'ho registrato ma stavo male Quindi, tutti quanti, non scherzo, raga Quindi, non dita niente a nessuno Procurarmi che ho poco vita Ok No Non mi ero accorto No Se mi becca sono morto io Ho sprecato la super e così a caulo, raga Raga, sto durando un botto con poca vita, non ci credo No Raga, ha un HP, ha, un HP Ah, bravo il nostro Sky Blue GG Gettone stella per noi Neanche 30 gettoni E niente, raga Andiamo ad aprire questa cassa gigante Non c'è uscito un corno, raga Andiamo a fare Non so, proprio penso in due, raga Sì, sì Aspettiamo Ok E ci mettiamo Ci mettiamo La nostra Il nostro caro colt Mettiamo Ci mettiamo questo Un attimo, raga Andiamo a giocare Ci becchiamo in partita, raga, va bene? Ok ragazzi, siamo ritornati E ora Niente Andiamo a giocare con il nostro caro Sky Blue Stiamo attenti che la c'è NEMS Ah ragazzi, eh, ho scaricato E... Ma vi spiego un attimo, raga Prima abbattiamo Ah ragazzi, stavo dicendo che ho scaricato Un'applicazione Per esempio Che si chiama Lemon Una cosa così Per un lavoro Non voglio sponsorizzare Che... Ben 5 like Andiamo a farla Nel prossimo video Sempre se lasciate 5 like ragazzi 5 like E andiamo a farla Va bene? Ok, allora intanto Prendiamo No Molto infame No C'era quello là Infame Non me ne ero neanche accorto Che c'era quello là E' difficile Difficile, raga Qua Devo stare molto attenti, raga Ok No Aia 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 Ragazzi Non è possibile Vabbè Più uno Non mi vedi niente Dai Potevo andare meglio Però Non importa Dai Facciamo Vabbè Facciamo un'ultima partita del giorno Raga E poi Chiudiamo questo bel video Dai Cheat Bel video Cheat Raga Sono ancora Raffreddato Quindi Boh Non lo so Non ci sono tutti i guanti Mamma mia Mamma mia 9 power up Oh my god Oh my god Ragazzi C'è quel bull E quella rosa Camperati Quindi andiamo ad ammazzarli 10 power up per noi ragazzi Oh my god Questi qua Li uzzidiamo Vabbè dai Easy boy Easy Easy peasy Beh ragazzi Ci incontriamo In lobby Va bene Bella Ok ragazzi Siamo ritornati E andiamo a aprire Questa bella cesta E andiamo a chiudere Questo video Niente ragazzi Per questo video Tutto lasciate 5 Per il prossimo video Con la webcam E 10 like Faremo un altro video Con il nostro amico Mickey papi 03 Vi lascerò tutto questo Nella descrizione Commentate Condividete Iscrivetevi A me A calzio A campanellina Così Vi vedranno Tutti Notifiche Di video Live E noi Ci vediamo A un bel Prossimo Video Bye Ciao